Brizze del sottosegretario agli esteri, Stefan De Mistura, oggi alla Cittadella della Pace di Rondine. Per la diplomazia italiana sono momenti molto delicati, soprattutto per la vicenda dei Marò. Siamo qui nella Cittadina della Pace, quindi è un momento proprio di ricordare anche il Natale e ricordare quanto è importante i ottimi rapporti che vogliamo avere con tutti i paesi nel mondo. Il nostro pensiero è e rimane con i nostri Marò, è un momento delicato e quindi non ci sono alcun commento che voglio fare a questo punto. Sono state parole grandi, ci riempiono di speranza, è il riconoscimento che l'azione di diplomazia popolare che parte dalle giovani generazioni, dalla concretezza delle relazioni, apre degli scenari incredibili. Siamo molto contenti di questo nuovo e ulteriore riconoscimento all'azione di Rondine che contribuisce a portare il nome dell'Italia nel mondo come un luogo che produce una cultura di dialogo e di grande apertura.